salve a tutti amici di newsgeek eccoci qui con iphone 5 e con la cover rigida graffiti offerteci gentilmente dalla casa italiana celli andiamo ad aprire la confezione ovviamente insieme a voi ecco qui la nostra cover rigida molto ben fatta come potete vedere questa è in sovraimpressione se mettete il dito sopra sentite come è fatta bene sembra davvero che ci abbiano spruzzato sopra con una bomboletta andiamo a mettere questa cover rigida sul nostro iphone 5 come potete vedere aderisce perfettamente e non pregiudica l'utilizzo le uniche parti qui scoperte comunque sono quella il vano per la fotocamera e il bilanciere del volume l'entrata qui e l'entrata sotto con gli altoparlanti molto ergonomica da tenere in mano e al tatto piacevole se volete acquistare questa cover andate sul sito celli.it e che poi comunque la metteremo sotto al video e per questo è tutto arrivederci amici di newsgeek grazie a tutti